7.35 la scuderia nobile Magic's Club, macchina in movimento, anziani sul medio, 8 in prima, 2 in seconda e siamo a metà della piegata, allineamento che va quasi a completarsi. Arretrato Rani Mede Fass, numero 8, bene a rete gli altri. Ancora un ottimo allineamento e quindi ottimo e professionale il lancio, si lotta per il comando ma Ringo ha le prese con ovvio, poi Ringo rinviene ai rughi delle selve, poi One Way AS, passa l'allievo di Gallucci, 13.2 il lancio e così ha completamente la piegata, rimane Nasino al vento, rughe delle selve che punta in avanti. Ragusa è sollecita ma rimane a largo per il momento. 28.4 insiste Rugghi, spende molto, un po' molto, ma Rugghi al comando. Lunga fila indiana dopo 600 violentissimi in 42.7 da 1.11 e qualche spicciolino. Fila indiana sulla piegata, Rugghi, ovvio, ma Ringo si completa il mezzo miglio nell'ordine del 58.6 e Ringo anticipa One Way e prende la via del largo. Cavalli di fronte, si va a timbrare il chilometro, ovvio fa una mezza ruota, 13.5 il chilometro, viene via la grande One Way AS, anche la Ragusa, One Way piomba sui primi, incisivo l'arrivo del pigna, viene via anche Ragusa che è andato in carburation, 14.7 di fronte, passa One Way, filata da Ragusa, avaliare completamente la curva finale, di dentro ancora i piedi di rughe delle selve e della Ragusa a largo che passa con estrema facilità e viene via ovvio e anche il 9 di Nasturzio, Ragusa per proprio conto, ovvio Nasturzio, 10.5.9, 1.57.3, chapeau per questa femmina da Pine Chip, Jet Paddock, Jet Proprietari. Il training perfetto di Giacomino perfetto, 1.55 in chiusura, Ragusa Jet, Gaetano Di Nardo, mai banale le sue guidate, senza sbavature e ancora una volta essenziale, ovvio e Nasturzio, bene bene bene, Magic Secab sta ritornando in ordine, prende il quarto, volo per la prossima, linea allo studio.